Giovanni Magri per il Movimento 5 Stelle vuole fare chiarezza rispetto ad una serie di boatos, di voci, di corridoio degli ultimi giorni, rispetto ad un eventuale appoggio a uno o all'altro candidato a sindaco per il ballottaggio. Quindi in questo momento qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? La mia posizione, la posizione del Movimento 5 Stelle è e rimane sempre la stessa, che è quella che abbiamo scelto da sempre perché è nella nostra natura di dire ai cittadini che il voto è una cosa molto importante a cui non si deve, non si può rinunciare, quindi dobbiamo andare a votare sicuramente. Ma non ci sentiamo assolutamente di dire alla città che votiamo per questo candidato o per l'altro candidato. I cittadini in coscienza sapranno per chi andrà a votare, bisogna, ripeto, andare a votare perché è un dovere civico. Quindi quello che è importante è la speranza che tra questi due candidati uscirà la persona che speriamo riesca a risollevare questa città da questo grande macerie in cui si trova in questo momento. Quindi buon voto a tutti i cittadini. Non andate al mare domenica perché è importante andare a votare. Quindi ci tenevamo a precisare queste voci che giravano che non sono assolutamente vere. Grazie.